Buonasera a tutti, ben ritrovati dalla vostra Maica. Siamo anche stasera sul libro aperto all'indirizzo www.maicamedici.com per parlare un'altra bellissima lettura. Allora, questo romanzo è uscito lunedì, lo trovate su Amazon anche con Kindle Unlimited, in cartaceo e in digitale. Allora, è Scandalo della brugliera di Pamela Boiocchi e Michela Piazza, edito del rieditore. Ma andiamo a vedere immediatamente a parole mie. Eccolo qua. 1838, da Londra al cottage nella brugliera di Dartmoor. Sicuramente non avrebbe mai immaginato una fine del genere. Olivia Sharp, superviziata e corteggiata, il suo regno fatato, costruito sulle apparenze, crolla con la morte del padre, rimasta sola già orfana di madre, raggiungessi a Catherine Sharp nella brugliera, dove le braccia le cadono già alla vista del cottage. Un dolore profondo rinunciare ai salotti londinesi, quasi più della perdita. Uno strappo che deve assolutamente ricucire, anche perché gli atelier si li può dimenticare e deve imparare l'arte di arrangiarsi. Una vampata di vergogna la salì mentre si rendeva conto di essere appena stata scambiata per la domestica, di una casa di campagna per di più. Era tutta colpa di Kitty, ovvio. A causa della sua fissazione per le città in campagna, indossava un abito con l'orlo macchiato, portava un grembiule e aveva farina nei capelli soltanto perché aveva deciso di assecondare l'assurdità di preparare dei dolci con i mertilli che avevano raccolto. Quelle braccia cadute e sepolte dopo la magra figura sembrano tornare al loro posto in previsione di un piano, dei più diavolici, per riacquistare titolo, l'agio tanto meritato e ritorno nell'amata Londra. In fin dei conti si tratta di un affare come un altro, perché non tentare? Non credo ci abbiano presentati formalmente, benché suppongo ci siamo già incontrati in diverse occasioni. Sono Adam Drake, di Blackmore Manor, figlio del capitano Benedict Drake, figlio di genere del capitano Drake, malandrino, esagerato, inaffidabile, seduttore incallito, fa sfoggio di quella frase che gli riempie la bocca. Non sto cercando una moglie, ma solo un modo di ammazzare il tempo in questa brugliera desolata e noiosa, e approfitta per circuire la preda più facile solo, che non aveva messo in conto di rimanere ossessionato da. Per quanto possa essere al sicuro una giovane donna con quelle labbra incantevoli, mi stupisce che ogni uomo di Londra non abbia già provato a baciarvi. Io non ho resistito, io non ho desiderato fare altro sin dal momento in cui vi ho vista. Una fissazione che porta guai e ad una soluzione riparatrice. Eventi che mutano in sincrono con sentimenti e segreti, misteri, timori, turbamenti, l'inganno che rimette ancora una volta tutto in discussione. In quale momento di tutta di quella storia assurda aveva smesso di desiderare il nome e la posizione di re che aveva iniziato a volere lui? Entrambi hanno paura che quel passato che li ha segnati possa minare tutto ciò che resta da vivere insieme. L'eternità in bilico su un dannato vecchio monile. Chissà se la forza dell'amore riuscirà a liberarli dai fantasmi. Andiamo con la seconda parte. Al contrario, sono io che vi devo tutto. Mi avete restituito le radici che avevo perso da tanto e questo mi ha permesso di aprire di nuovo il mio cuore. Potrei continuare all'infinito postando estratti che vi mettono di fronte ad un romanzo che forse potreste immaginare in un certo senso leggero. Uno scritto con meno etichette se paragonato ad altri drì che ci fa ritrovare di fronte a quel non me l'aspettavo. Una viziata sciocchina, Liv. Che ha sempre avuto la tavola apparecchiata, costretta un giorno a rimboccarsi le maniche tra le pieghe di una tovaglia che ha dovuto mettere, scogge gli strappi. Strappi dovuti ai problemi quotidiani di chi per andare avanti non si piange addosso ma affronta la vita con dignità. Si evince la differenza sostanziale tra i fratelli Sharp, la vacuità dell'animo e l'opulenza esteriore del defunto padre di Olivia contro il cuore pieno di generosità, comprensione e amore della zia Kitty. Adam Drake, figlio di genere, del suo presente ne fa un mistero con i familiari, i quali però conoscono fin troppo bene quel passato che non riesce a seppellire. Entrambi i protagonisti hanno delle ferite da rimaginare. L'uno sarà la panacea per l'altro, il completamento dell'anima, il nuovo battito incessante del cuore. Questo arriva al lettore per mezzo di un'attenta analisi dei personaggi che non sono né banali né scontati. Esulano dai canoni del classico storico, la prova ne è il ruolo di Adam che si scoprirà non essere il solito arricchito e fannullone. Aggiungere altro sarebbe ripetitivo e rivelatore. Vi lascio gustare questo piccolo capolavoro che vi ricorderà di non fermarvi alle apparenze e che bisogna dare sempre la possibilità, l'opportunità per non ritrovarsi a dire se l'avessi fatto. Bisogna saper vivere di emozioni che certe volte vengono assopite e annientate da una ragione che mette paraocchi e barica il cuore dietro una cortina di paura. Colpita e affondata, da Pamela Pagliocchi e Michela Piazza, complimenti di cuore. Allora, io adoro queste due autrici perché hanno la scrittura anche a parte che sono bravissime, le abbiamo viste anche l'altra sera in diretta sul mio gruppo. Sono impressionanti, scrivono insieme, mantenendo lo stesso stile non si riesce a capire dove termina una e inizia l'altra. Non si avvalgono dei pov, quindi magari la scelta più ovvia quando si scrive a quattro mani è che l'una prende un pov, uno al maschile e uno al femminile, di modo che poi così spicca proprio il profilo maschile e quello femminile. Su romanzo storico, ovviamente voi l'avete mai visto a Pop Alterni, quindi c'è sempre il narratore esterno, ma al di là della bravura, del linguaggio mai così banale, mai scontato, una lettura molto fluida, comunque sono brillanti, hanno le battutine sempre, sono argute. Proprio la storia è veramente bella. Vi troverete di fronte a due personaggi così vuoti. Vuoti non perché loro l'hanno, vuoti perché sembrano solo attaccati al vile denaro e basta. Solo quindi, no, si avvicinano magari solo per una questione di interesse. Lei per il denaro e lui soltanto per un'avventura. Invece non è niente, niente assolutamente come sembra. È stata fatta una bella analisi, ma soprattutto viene messo in risalto il rapporto familiare, umano. Cioè la figura di Kitty è la più bella in assoluto, al di là, per carità, dell'evoluzione che c'erano i personaggi. Non vi dico niente di Adam perché comunque, vabbè, non vi dico proprio niente. Se no magari in qualche modo, anche se non capirete la trama, potete arrivarci. Kitty le dice a un certo punto, qualsiasi sarà la tua decisione ti appoggerò. Cioè comunque stiamo parlando di 1838. Non è come oggi, dici io amo, ma esempio, se ti lasci con tuo marito, no, non fa niente, tanto domani ti fai una vita, no? Adesso questo è un esempio. Invece, cioè, carattere forte, io ti sarò vicina, io ti sosterrò, moralmente ti sarò vicino, io ti... È bellissimo, è veramente bello, veramente bello. Quindi continuo a fare i miei complimenti a Pamela Bojocchi, mi raccomando Bojocchi, Michela Piazza, all'adredditore, perché continuo a puntare su questo tuo meraviglioso. E niente, vi ricordo che questo scambolo è la brughiera. Eccolo qua. Deve veruncine le trovate su... su t-social, dredditore, www.dredditore.it oppure maicamedici, www.maicamedici.com Mi raccomando, iscrivetevi al blog, piacizzate sul canale YouTube e condividete. Grazie, alla prossima.